No! Non sapete chi sono? No! Non sapete chi sono? No! Sono freddo, dal whisky facile, son criticabile, ma son fatto così Siamo venuti qui in centro Bologna casualmente con Franz Campi perché ci troviamo qua per parlare di Bologna Bologna che quest'estate è molto attiva, poi vedo qua dei giardini al cubo, siamo in un giardino, non è quello Però c'è un giardino a Bologna che d'estate si ravviva Sì, è un posto nuovo, per il più è misterioso ed è bellissimo In via Stalingrado dove c'è quella specie di ponte con una specie di balena Di fronte appunto al centro di ristorante, è dentro il centro di ristorante dell'Unipol, quello nuovo che è appena costruito Sopra, salendo, dove c'è anche il ristorante e l'osteria Leoni, sono due giardini meravigliosi Pensili proprio, sospesi nell'aria E lì in mezzo a questo luogo magico, pieno di luci che si colorano e cambiano colore durante la serata Organizzeremo una rassegna che si chiama Bazzardini al cubo E prevede tantissimi appuntamenti musicali di comicità E soprattutto da agosto fino a settembre ci saranno invece delle passeggiate Si chiama così il trekking urbano, in cui faremo passare appunto qualche minuto veramente alla ricerca delle nostre radici Al pubblico ci seguirà, passando da praticamente il viale della Repubblica dove c'è la Copp Fino ad arrivare all'ex officine Minganti, passando appunto per quel giardino al cubo Un percorso tutto sopraelevato, quindi si passa sopra il traffico E in questo percorso si incontrano personaggi di diverso tipo, del mondo della cultura, dello sport Una cosa molto divertente e assolutamente inedita Bologna ha bisogno, perché Bologna d'estate è bellissima Non c'è questo fuggi-fuggi della città Le serate bolognese sono eccezionali Quindi c'è bisogno di riportare vitalità a iniziative di questo genere Anche perché l'arredo urbano, anche quello nuovo Perché l'innovazione della cosiddetta balena, o comunque di questi giardini pensili sulla via Staniglano È una cosa fantastica, che la gente non conosce ancora così bene Non conosce e noi in questa serie di spettacoli di incontro li faremo conoscere Cerchiamo di farle conoscere, ricordando che sono spettacoli gratuiti Quindi il main sponsor, che è appunto Unipol, in questo caso Cubo di Unipol Offrirà ai cittadini questi spettacoli di cabaret e di musica E anche in caso di pioggia, lo spettacolo ci sarà lo stesso Perché ci sono dei portici enormi e lo spettacolo si fa sotto i portici Quindi non prendete impegni, pioggia o non pioggia, bisogna essere presenti Tutti giovedì Allora, raccontiamo intanto qualche presenza di qualche ospite di queste serate Dunque, sono mischiate le serate, un po' di comicità e musica di altissimo livello Con dei progetti molto originali ed eleganti Per una musica, diciamo, originale con dei progetti che non sono, diciamo, dozzinali o buttatini improvvisati Quello che fa appunto il calabrese trapiantato nella metropole, anche lui da zelig Non zeligò, fa proprio zelig Quello che diceva che faceva quello che gli pareva Esatto, io faccio quello che mi pare, me ne fotto Me ne fotto, è simpaticissimo, ha uno spettacolo che dura un'ora e mezza Addirittura monologhi, monologhi da sole, è veramente forte E poi si parte con una musica di altissimo livello Mi sono innamorato di questi progetti perché li ho scoperti nei concerti segreti Che ha organizzato quest'inverno Marco Bischarini, nel suo modo un lab Marco Bischarini mi ha accompagnato, è un direttore dell'orchestra Un compositore, direttore dell'orchestra, mi ha accompagnato a Sanremo Ci siamo amici da tanto tempo E adesso ultimamente sta facendo le musiche dei film di Giorgio Diritti Che ha metto un sacco di premi internazionali in queste musiche E lui ha organizzato questi concerti segreti nel suo studio, Casalecchio E ha proposto, mentre a pubblico ristretto appunto il passaparola Questi progetti interessantissimi Mentre loro suonavano in realtà registravano un album live Anche io sono andato lì a registrare, mi sono innamorato E ho conosciuto questi tango splin, si chiamano Sono un gruppo che sono metà argentini e metà italiani Hanno vinto i più importanti premi nel mondo Per quanto riguarda la musica, il tango, eccetera Sembra di ripiombare in un'atmosfera Buenos Aires a inizio del secolo Poi dopo la giovedì successiva andiamo con Andrea Desi Che è un compositore e musicista chitarrista bolognese Che ha scritto tra l'altro recentemente un brano di successo Per Viaggio Antonacci, non vivo più senza te Questo è un successo enorme E lui farà una serata dedicata alla musica flamenca E c'era Rodriguez, si chiama esattamente Raquel Rodriguez, una ballerina spagnola Viene proprio dalla Spagna apposta a fare questo spettacolo Che farà vedere cosa vuol dire ballare il flamenco Poi l'11 luglio Federico Straga Che è un musicista che molti conoscete Ha trovato l'astronave, si Ha trovato, esattamente, bravo, si è preparato L'astronave fu successo nel hit qualche anno fa Viene andato a Sanremo E fa uno spettacolo in cui presenta oltre alle sue canzoni Anche i brani che lui ama di altri cantanti italiani Poi c'è molto eleganti in acustico Poi abbiamo invece giovedì 18 luglio Gershwit Quintet Sono cinque donne che suonano Quattro sassofoni e un pianoforte Eccezionali L'ho vista anche l'anno scorso A Zola Predosa per Justin Wayne Con la rassegna Tutto esaurito Fecero applausi scroscianti Poi si torna alla comicità il 25 luglio Con il due idea Che sono quelli che sempre da Zelig Che prendono le canzoni Le smontano Le rimontano E' un'opera complicatissima E' complicatissima Lo so come faccio Prendo una canzone famosa Una melodia E metto nel testo Un'altra canzone altrettanto famosa Mischiando un cortocircuito mentale Cipaticissimo Poi una bella voce A questo punto C'è Gloria Turrini E' una donna E' una romagnola Tra l'altro Viene dalla Romagna Ha un gruppo fantastico Con l'Ele Veronesi E Mecco Guidi Alla tastiera Hammond Fa tutti i pezzi blues Dei grandi intempiti blues Dei passati Dei gesti anni 30 Ha una voce Ha delle corde vocali Che sono delle gomme Non sono delle corde vocali Ha una voce potentissima Chiudiamo l'8 agosto Con i spettacoli Con Duilio Pizzocchi Un nome che non ha bisogno Di presentazioni Un artista fantastico Bisognerà fermare Buttarlo giù dal palco Quello va avanti due ore Va avanti Non si ferma E poi iniziano appunto questi Dal 22 agosto Al 23 Al 26 settembre Inizia il trekking urbano E lì faremo delle serate Specifiche Passeggiate Come dicevo prima Sopraelevate E incontreremo il percorso Dei personaggi Una serata sarà dedicata Una passeggiata All'architettura Quindi a questi spazi Che dicevi tu prima Che hanno creato recentemente Uno alla musica Uno alla solidarietà Uno allo sport Ogni tappa Personaggi Adesso sono ancora segreti Ma fantastici E sarebbe poi alla fine Un assaggio ovviamente All'osteria Leone Qualcosa si mangerà Bene allora Noi abbiamo dato un'anteprima I bolognesi I più pigri Possono già organizzarsi Per insegnarsi in agenda Appuntamenti importanti Perché ce n'è per tutti i gusti Quindi sono serate È tanto gratuito Intanto è specificato questo La cornice è stupenda Il divertimento E la voglia di stare insieme Sicuramente non mancherà Non sapete chi sono? Non sapete chi sono? No Sono freddo Dal whisky facile Sono criticabile Ma sono fatto così